Il Comune di Pugnano, il Consessore, poi farei intervenire il Consiglio regionale, l'Avvocato del giornalismo, per poi passare la parola al Sindaco o a quei consiglieri di alternativa di dichiarazione che possono fare, una lotta imprevisiva di dichiarazione, la parola di dichiarazione. Il Comune di Pugnano, il Saluto del Sindaco, che non ha avuto partecipato questa mattina in quanto le atteste, il Viettis di lavoro, il Viettis di lavoro, il Viettis di lavoro, la parola di Pugnano. Io ho assolutamente, quanto è stato detto allezate a casa, dalle fratture, incheche alla libertà di tristituzione. Io ho scostato sempre a questi anni che avevo fatto un progetto al consiglio di una disciplina del discurso a un mondo alto. Ebbene, il corio nazi, a questo, alla coesione, al superamento delle barriere ideologiche, ad evitare, diciamo, così, quelle decisioni, quelle tentazioni, a cavalcare, diciamo, per la voce. Sul ruolo dell'estudianto, come dire, diciamo, la situazione per i propri propagandisti. Io, come ha detto, diciamo, il sindaco di Pomigliano, e che mi svolge il nuovo seno a volte, bisogna fare massa critica, perché, come è stato già detto da altri espagnoli politici, a un problema di tipo politico risponde politicamente. Io gli ho detto tanto una cosa, che la rimposta di tipo politico ha una sua validità, una sua efficacia, se colui che su cui risponde politicamente ha una massa critica. Quindi, se sarebbe capace di fare coesione, di avere questa massa critica, il problema ha la possibilità di essere superato. Se mi chiederebbe una valentazione di giocare il sindaco a me, per cui non lo verrà, perché ha un buon lavoro, personale, per cui non lo verrà. E allora, se sarebbe sempre appunto di partenza, il sindaco ricordava, il sindaco di Pomigliano, ricordava a me nel discorso che nella sua, lui la dedica impedire l'esperienza politica da 1984, quando è stato senatore del sindaco. Lui ricordava appunto che, quando si trattava che il Parlamento, c'era l'esperienza di approvare dei provvedimenti che, diciamo, riguardavano i territori, a partire da diretti in giù. E poi non c'erano decisioni politiche. Non esisteva proprio lui. Si era, si era più giusto, in difesa dei propri territori. Guardate, la porta della Lega, che io ho sentito, ci hanno più volte, la Lega non c'erano. La porta della Lega è tanta, ma si chiude una porta istintica. Io penso che possa fare spreccia, perché, diciamo, si interisce nelle dimissioni che non c'erano il piano. Quindi, diciamo, più che lottate contro una forza esterna. Noi dovremmo lottare contro le porte esterne, mentre quella parte. non c'erano le porte esterne. Se saremo in questo caso, allora dovremmo portare a casa il risultato futuro. Al fine, c'è poco da parte. Grazie. A presto, grazie. Grazie a tutti. A presto. A presto. Grazie a tutti.